Non un festival ma una ricerca, non uno spettacolo, ma un tragitto da condividere all'insegna dello spettacolo della realtà. Così Oscar Riarussi, giornalista, saggista e presidente di Apulia Film Commission, ha presentato la rassegna multidisciplinare, da lui ideata, Frontiere, la prima volta, che si terrà a Bari dal 21 settembre al 1 ottobre. La manifestazione, che prevede incontri con scrittori, cineasti e musicisti, film, mostre e conferenze, si svolgerà tra l'ex Palazzo delle Poste, ristrutturato dall'Università di Bari, il Teatro Petrozzelli, il Cinema ABC e il Multisala Galleria. Tema della prima edizione di Frontiere, promossa da Regione Puglia, Puglia Film Commission, Fondazione Petrozzelli, Università e Comune di Bari, sarà la prima volta. A chiudere la rassegna sarà l'evento Oltre Frontiere, che avrà come protagonista Anthony Endo Johnson. Insieme a Oscar Riarussi a dirigere la rassegna saranno il critico cinematografico e scrittore Silvio Danese e l'organizzatore culturale Pier Giorgio Carizzoni.